Eccoci qua, belli ghiotti, siamo con il buon Fabrizio. Fabrizio è una new entry. Ciao, ciao Steve. Però è una new entry per voi. Ciao Fabri, come va? Ma abbastanza bene, non mi lamento, non ho ancora vinto la lotteria, ma ci sto provando tutti i giorni. Ottimo, bene così. Se vinci fammi sapere, non sparire come fanno tutti. Pensiamo proprio di sparire Steve, comunque, mi farò sentire solo da te, dai. Allora, partiamo subito Fabri. Ok, conoscere ragazze in inglese, questo è un ottimo topic, non è mai stato fatto, credo. Conoscere ragazze straniere, come mai ti è venuto questo titolo? Guarda, ti spiego subito. Mi ha dato l'ispirazione Gabriele, che è uno dei nostri studenti, che saluto, che ho conosciuto personalmente a Milano durante alcuni game, e devo dire che lui ha avuto la bravura e anche la fortuna di saper parlare inglese. In una città cosmopolita come Milano, in cui il 50% delle ragazze che si vanno a conoscere non parlano italiano. E qui ragazzi abbiamo due vie. Nel senso, oggi si esprime maccheronicamente con i gesti, come fanno gli italiani medi, che per carità fanno simpatia e sono patriotticamente indirizzati verso questa comunicazione, oppure si fa bella figura e si parla in inglese e forse si riesce anche ad essere attrattivi ed efficaci. E ho visto proprio questo nostro studente Gabriele, che ha portato a casa non solo un numero di telefono, ma anche un appuntamento con una ragazza straniera, parlando e messaggiando solo in inglese. Ragazzi, pensate a cosa sarebbe successo se l'inglese Gabriele non l'avesse saputo. Assolutamente sì, ma ci sono tantissime straniere, come hai detto, su Milano, veramente parecchie turiste, eccetera. Quali sono le differenze sostanziali? Come cambia se cambia la conoscenza, quindi il rapporto? Guarda, te lo dico subito, so che adesso molti mi aggrediranno, molte ragazze probabilmente italiane si sentiranno prese in causa. Gioco mi dovete dire. Esatto. Allora, le ragazze straniere sono molto incuriosite dal maschio italiano, perché il maschio italiano, agli occhi loro, è un seduttore naturale, nel senso che è una persona che ha un carisma e una leadership tale da poter incantare, e quindi per loro è, diciamo, anche il fatto di essere fermate per strada e così che un maschio parli loro a cuore aperto è una novità, in quanto nei paesi nordici non si usano né tradizione. Infatti ci sono altri modi per conoscere ragazze, forse un po' più freddi, forse un po' più impersonali, ad esempio la chat. Di conseguenza, una ragazza straniera è molto incuriosita dall'italiano, questo dobbiamo scriverlo e semplicemente farne tesoro. Cosa succede? Che c'è un dialogo molto più naturale. La ragazza, anche se ha fretta, rimane a parlare volentieri, perché è incuriosita ad assorbire elementi della cultura italiana, probabilmente perché è qui per poco tempo e quindi vuole far tesoro delle esperienze, delle emozioni, dei sapori che l'Italia vuole e può offrire agli stranieri. Quindi, da buoni italiani, dobbiamo fare da cicerone. Ok, allora, in genere come si apre, come si conosce una ragazza straniera? Allora, se vuoi ti posso offrire una frase che io uso spesso, molto diretta. Ovviamente adesso i soliti faranno copia e incolla, no? Però vi dico ragazzi, l'importante è sempre come la dite. Allora, io solitamente quando mi avvicino ad una ragazza straniera, le dico a very simple question. Do you find courage attractive? Che significa una domanda semplice. Trovi che il coraggio sia attraente? Lei solitamente risponde di sì. Chi direbbe che il coraggio non è attraente? E quando lei dice di sì, io rispondo semplicemente So, you are saying I am attracted? Perciò stai dicendo che io sono attraente? E da lì in poi si inizia una conversazione fatta di botte e risposta, fatta di comfort, creazione di comfort. Questa è tosta, è originale, sicuramente molto audace, e potete prenderla ragazzi come sfida. Qui sì, allora vi dico fate copy and call, perché è sicuramente una frase non da tutti, ci vogliono le palle, ci vuole una bella dose di sangue freddo, perché non è tanto, secondo me, l'essere attrattivi in quel momento, ma è il saper rimanere imperturbabili dicendo questa cosa e poi vedendo la sua reazione. È quello che ti fa apparire attraente in quel momento. Veramente figo. Io ti dico, ho conosciuto, non parlo inglese benissimo, lo sto imparando in questi mesi, in queste settimane, parlo più lo spagnolo, però tutte le volte che vedevo turiste in Duomo quando lo facevo per strada, notavo proprio che erano molto più, cioè lo vedevano molto più come qualcosa di normale e naturale conoscersi per strada in questo modo e le barriere erano molto più basse, molto più flebili rispetto a una ragazza normale. Non so se è una cosa che avete e stai riscontrando anche tu in queste settimane, in questi mesi di training. Sì, la parola giusta è open-minded, nel senso che rispetto alle ragazze italiane sono molto più curiose, molto più aperte e non trovano strano un ragazzo che prenda il coraggio a quattro mani e butti diciamo il cuore oltre all'ostacolo andandoli a conoscere e tra l'altro ti mettono tuo agio perché molto spesso loro sanno che per un uomo, per un maschio medio, prendere coraggio e andare da una ragazza è molto difficile, perciò loro lo trovano addirittura divertente. Poi certo, non voglio stereotipare la categoria e ci sono ragazze molto difficili anche tra coloro che non sono prettamente italiane e ci sono ragazze tra le italiane che invece hanno la stessa enfasi quando appunto vengono avvicinate da un nostro studente. Perfetto, perfetto. Fabri, ci siamo in questa intervista. Figo anche proprio il fatto che sei riuscito in una maniera molto sincera a dire quello che pensi e quello che poi apprezzano le persone intelligenti. Grazie mille Fabri. Alla prossima, see you and learn English because it is so important. Ragazzi avete capito? Bene.